guarda della mia vita ho partecipato per lavoro sia alle feste dell'unità con migliaia e migliaia e migliaia di persone in queste piazze enormi e che a quelle della democrazia cristiana che la vecchia dc non ho mai preso posizione politica però perdona la mia presunzione io sono sempre stata consapevole del mio talento e per questo non ho mai dovuto chiedere favori a nessuno e nessuno si è mai sognato di chiedere qualcosa in me in cambio a me metti anche il fatto che io sono sempre stato considerato solo una ballerina e quindi innocua e forse poco utile a fare propaganda è un'etichetta che 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 mi porto dietro anche adesso e che anzi viene utilizzata dalla stragrande maggioranza dei miei come si chiamano detrattori per sminuire quello che dico questo atteggiamento purtroppo lascia che lo dica massimo è molto presente nella mentalità italiana mentre non è per nulla presente nella cultura americana noi abbiamo avuto presidenti che erano attori fino al giorno prima e nessuno si è mai sognato di screditarne la capacità perché erano stati attori della mentalità di molti italiani e come ballerini io dovrei parlare solo esclusivamente di ballo dimenticando che ogni cittadino ha il diritto di esprimere e proprio di senso tra l'altro e quelli che 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 hanno questa come si può dire mentalità molto provinciale sono gli stessi che sui socio esprimono giudizi su tutto opinione di chiunque va contestato nel merito non sulla base dell'autorità di chi la esprime io ho sentito dire menzogne massimo da persone piene di autorità come il presidente del consiglio italiano come del presidente degli stati uniti da fauci ricordati avere autorità per parlare non significa essere nel giusto così come non avere autorità per parlare non significa essere nel tutto